A prevalere è stato l'interesse della collettività. Apostrofa con questa espressione il sindaco Luigi Mennella al termine della presentazione della giunta comunale il lavoro sotteso alla costruzione dell'esecutivo cittadino, lanciando tuttavia un appello di partecipazione ai lavori di rilancio della quarta città della campagna a tutti gli alleati di governo. Questo è stato il nostro motto dall'inizio, da quando sono stato candidato, sin da quando abbiamo fatto un programma condiviso con la città, sin da quando ho detto che la nostra coalizione è stata unicamente creata anteponendo gli interessi della collettività e anche questa volta è prevalso lo stesso concetto. Io devo ringraziare in particolar modo quei partiti che pur avendo delle rappresentanze al momento hanno fatto un passo al lato, sempre nell'interesse appunto di creare una giunta che possa dare una mano ma saranno interessati sostanzialmente tutti i consiglieri comunali perché se si vuole veramente lavorare tutti insieme in modo molto serio noi avremo molto da fare per dare una svolta concreta alla città di Torre del Greco. Non sono mancati poi accenti di chiarimento e di indicazione del metodo seguito per la composizione dell'aggiunta, almeno in questa fase, a chiara matrice politica e meno civica. Li spiega ai nostri microfoni. Questa è una cosa che voglio un attimo specificare bene. In questo momento insomma c'è anche la necessità di un'appartenenza un po' più al partito ma non appartenenza politica. Spiego nel senso che voi sapete, ho sempre parlato della filiera, la filiera con la regione, la filiera con la città metropolitana. In questo momento secondo me in questa fase, in particolar modo all'inizio dobbiamo mettere in modo un motore che possa diciamo incominciare a muoversi e il partito in particolare che è legato può esserci vicino e ci può dare sostanzialmente la mano. Non per questo, non mettendo da parte appunto le liste civiche, le quali ovviamente ringrazio, ma ringrazio ancora di più e dimostrano il fatto della sensibilità che hanno avuto in questo momento a capire e a starmi soprattutto vicino. per cui in particolar modo un grazie va a loro e sicuramente tra le altre cose saranno e condiviscono innanzitutto il ragionamento in maggioranza, ma sicuramente loro saranno anche protagonisti nel prossimo appena futuro. Io sto aspettando un insediamento del Consiglio Comunale perché tanti consiglieri comunali possono partecipare al lavoro perché ce ne starà tantissimo se vogliamo appunto dare come dicevo prima un cambiamento. Un'aggiunta a composizione mista tecnica e politica ha avuto difficoltà nella composizione del parterre esecutivo? Assolutamente no. Sono stato molto libero, ho cercato di individuare le persone che in questo momento mi potessero stare particolarmente vicino col lavoro perché c'è da fare tanto, in particolar modo in settori nevalgici ovviamente c'è più la competenza specifica, per esempio mi riferisco all'urbanistica, mi riferisco al bilancio, mi riferisco alle politiche sociali, insomma mi riferisco alla nettezza urbana, insomma che è nevralgico, è diventato diciamo qui nella parte diciamo del ciclo integrato, insomma questi qua sono settori a parer mio fondamentali, gli altri sono diciamo che possono rodare in altri settori ma qui secondo me ci voleva più il tecnico. Turismo, eventi e cultura invece, le deleghe proprie del primo cittadino. Nel discorso del tecnicismo e della ripartizione delle deleghe manca l'assegnazione della cultura e degli eventi che il sindaco ha deciso di tenere per sé perché i motivi di questa decisione non sarebbe stato opportuno a concederla ad un tecnico apposito? Allora intanto devo dire che per la verità ci manca il turismo, ci manca lo sport, ci manca il cimitero, ci mancano i parchi verdi, ma ci mancano tanti, il problema è che avendo dato queste idee che tutto il resto rimangono al sindaco. Io sono uno che diciamo nella mia vita ho studiato piano, mi sono occupato di musica ed è una cosa che da sempre mi piace, quindi per esempio quello là del turismo noi parliamo della città a vocazione turistica, ci siamo detti tutti e lavoreremo, ecco perché ho voluto un urbanista in particolar modo specificamente tecnico, perché se dobbiamo ridisegnare una città la dobbiamo fare con la vocazione turistica e il turismo, la parola turismo oggi è una parola importante che mi sono voluto tenere per me. Il turismo significa anche cultura, attenzione, ma significa anche eventi, insomma significa tutto in un contesto che possa guardare un futuro di una città che possa esprimere veramente tanto. Buon lavoro. Grazie mille.